C'è uno che fa sempre così con l'occhio, c'ha questo tic, si ferma per l'autostrada, si mette a pisciare, guarda Rai, da un certo punto si avvicina a Nanetto, vicino a lui si mette a pisciare e comincia a fare così pure lui. Questo lo guarda e gli fa, oh, ma che mi stai a pia per culo? E Nanetto gli fa, no, sono schizzi.